Continua il momento magico di Claudia Cretti, regina incontrastata della categoria lieve in questo avvio di stagione. Infatti la portacolori della Molinello Futonservetto ha conquistato in volata il terzo successo consecutivo in tre gare disputate. Nulla da fare quindi per la veneta Maria Vittoria Sperotto, che grazie a questo secondo posto è diventata campionessa provinciale padovana e per la milanese Martina Alzini, di nuovo terza come era successo qualche giorno fa a San Bassano. Come spesso accade nelle gare femminili, c'erano ragazze provenienti da quasi tutta Italia, nel piccolo paese di Schiavonia d'Este, in provincia di Padova. Infatti le 134 atlete al via hanno dato vita ad una gara frizzante con diversi tentativi di fuga. Qui nelle immagini vediamo alcuni scatti delle ragazze della Moro V8 e del team Giorgione Rosa, ma nessuno di questi scatti si è tramontato in una fuga decisiva. Infine, oltre alla stupenda vittoria della Cretti, è da segnalare per i colori orobici il settimo posto di Miriam Vece della Valkar PBM. Grazie a tutti.